Stai attento che sei 50 posizioni indietro 40 quelle che sto Stai attento Stai attento perchè ti ricordo che sono con l'SK tutta la fine Sì, vabbè, adesso Quante peri ti hai giocato? Poi me lo dici Meno delle tue Rimarresti scioccato Sì, sì Cioè, neanche a dire, quelle che hai vinto le hai vinte con me Cioè Nel senso Tu le hai vinte con me Tu le hai vinte con me Eh, sì, sì Sì, sì, Pathwire Pathwire, non ho nessuno che gioca con me, Tommy Chiediamo di giocare Sì, sì, Pathwire Ebbè, ma questo che cos'è? Eh, perchè, sai, c'è un peso sulla spalla Quando si gioca con Pathwire È un peso più Che mi ha girato, che mi vuole lendare in testa Che lo fa? Ice, agente, guarda Lo prendo col mio charge rifle Eh, spero ti ho lasciato Cioè, sei da solo lì, eh T'ho disgraziato, guarda Se ne erano i GB era già dead Qua c'è una blue Disgraziato Arrimò anch'io da disgraziato Sì, cosa? Devo farmi di 20 cecchini diversi Potevano mettere un po' di meno, no? Dove... C'è un'arma che non siano sniper Che è uno di questi posti qua Ah, io sono... Stanno lutando tutti con la casa Stanno lutando comunque Ah, gli sto prendendo il tetto Traccato GB Quasi... Ha la viola Il blood è viola Ok, time to go Questa è la fortuna Dei disgraziati Questo Aspetta un attimo Che mi tiro le celle arrivo È una grenade per quello? Brucio, uno Uno è brucio Sono tutti e tre là dentro? No, solo due No, due Lo picco da questa porta 44 70 Sulla GB C'è una niente Dove è l'ultimo? Da me? Ah Craccata Grazie per il mass Ora se ne vada Oh, c'è una wingman Stavrò che ti ha fatto tutto il giro dell'isolato Per arrivare qua Non si era vista No, ci teneva Lascio il cannolo C'è gente qua C'è gente qua nella casa alta Qua c'è un altro mass Ma che è? Stanno da prendere cosa? Aribo Bello quello con l'Avok Aribo è la bontà Vai a prendere il pacchetto Il pacchetto È arrivato right now Vado Qua ci sarà di buono dentro Si spara un altro team Da bonsai Incredibile C'è Knockdown viola C'è un phoenix anche Se lo prendi Come knockdown viola C'è un knockdown viola Oh Ok Guarda qua Cosa? Quello lo prendo io Ah, rientriamo dal shock Tanto qua si è detto che c'è un altro team Non possiamo farci nulla Sì, bonsai gli sparavano Oh, gli hanno... Penso si siano accostati parecchio Ma tipo parecchio... Sì, si stanno pure buttando Random Ma what? Perché? Perché forse sono due squadre top Più quella lì che scappava Un GB è blocco Uno Anzi 30 Occhio lì Quello con lo speedfire Ho black Ok, ho l'hack Stanno qua No, ti prego Stanno qua Li sto ultando Sono tutti dietro Tira un arc C'è l'horizon isolata a sinistra No, si stanno tankando la mia ulti Stanno tankando la mia ulti Crackato del GB Ulti intato in flash Qua dietro Qua dietro Qua dietro Push, push, push Arrivo Ha ultato anche loro Ho fatto TP la rate Knockata Dove andare in fail Knockato uno Sta arrivando Tutti i flash Non vedo niente Controllo, controllo Arrivano un altro team Sono lontani Arrivano da dove era La rate Mi stanno pure sperando dietro Una sale Si avvicina parecchio No, va via Flash, knock Finito Controllo Dal lato di Hidroponica Free Hidroponica Free C'è uno Nascosto per un masso Che aiuta ogni colpo Non l'ho riuscito a pingarlo Faccio feedback Andiamo a prendere posizione Dai Siamo messi bene, no? Andiamo Un bozzo di W Let's go Sound C'è gente con open Sotto di me, sento Sento Io sento gente Sì, eccoli, eccoli Fatti c'è Un affidato E l'altro è rimasto solo Una bang Nord Va al nord Mi ci sono immolato Raga E da me Potrebbe Chittare Potrebbe Chittare Potrebbe Chittare Potrebbe Chittare Non mi piace Niente Non mi piace Per la ultima Per la 10 minore Dove Braccata Quasi Nuccato Ha un HP No, no, non Cheat È legitt Cheat 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 It's Legittimo È stato un package Sì, sì Sto andando per il package Sento ancora passi Dentro L'altro Qualche consiglio per migliore con Maza Keyboard Distinguere i tipi di mira Esercitarli singolarmente Usare un aim trainer Per imparare la posizione dei tasti Consiglio Type Racer Che se ne va di a fare Guarda il mio video Per allenare la mira E ratto È un po' tutto È stato un po' È stato un po' di tweet Non riesco a dargli Tipo un due colpi Oh, sta andassando Guarda che gli posso sbagliare Senti che maledetto gridi No, ma gli voglio solo rompere le scatole Non voglio pusharli Senti, lo sai che mi fa eco Mi sto bussando Mi hanno scannato questo C'è una loba che ha ultato Mamma mia Mi fa già paura Mamma mia che precisione Oh, qua c'è un Tre tipi Tre tipi Tre tipi Vanno No, non vanno Sono là Che mi guardano C'è un team che si allarga qua Ma non ho capito cosa c'è lì Che si può sbagliare Ma in realtà c'è molto Là c'è una squadra, vero? Che deve arrivare Sì No, no, già hanno Crossato Sono qui di là? Non so se è rimasto Sì, ne ho visti due crossare Qua? Dietro? Quanti ha costato? Occhio perché siamo easy da crossfire Grazie Eh, mi sa tanto che quel doppio passo Nella salita Non ci voleva Che tivello Oh, da te Ok, là Oh, occhio è vicinissimo Il GBP ha climbato È caduto Tiro uno scan Tiro neide avanti Tiro neide avanti Ti metto pressione Occhio Ha fatto TP out E mi sono fatto la red Sono a posto Tutti con skin del GB Occhio Non si capisce mai di chi Fa parte Traccato Non avrei Qua siamo safe Dove sono io Comincio a scarseggere le light Quel tipo aveva light? Se avete controllato? No Non ci ho fatto a casa Controllo perché Sto in need Oddio Stizzi qua Oh, 400 Dammi tu Si fa E' un stout di Bangalore Ok, guardiamoci dietro 400 light Guardo per eventuali furbacchioni Quante batterie avete raghi? Poi ne ho lasciate due Ok Ok, le prendo su 47 45 e 72 Dove c'è il banner del tipo Quanto passi? Si C'è un rocchino Slash, lascia che muo muore Non so tanto che stanno andando a morire Slash È tutto flash Jumpax Jumpa fuori Prendiamo la casa, raga Con il mio tp? La prima casa è presa La seconda mi sa che è ferma Dobbiamo cercare di arrivare alle casse blu che sono qua avanti Riuscite a venirci? Ora, ora, ora che stanno fightando i team nella casa Forse riesciamo anche a prendere Aspetta Arrivo Io provo a prendere la casa Posso giocare anche fuori Prendi il tetto Esatto, esatto Prendo qua Volete venire Venite, venite Abbiamo una buona visual L'altro team sta facendo il tp pure Andiamo Ok Qua, qua Guardate, guardate Qua Sul ping Ping, ping, ping Hanno provato a fare un tp o? Hanno fatto un tp? L'hanno fatto? Dentro casa? Dentro casa, sì Ok, andiamo qua Abbiamo una buona posizione Abbiamo la ulti di Memelor Oddio Si fightano? Si scascano Si scascano tutti Prendo il top Scanno Prendete il top della casa C'è una ulti non tua, mi sa Una è mia La seconda è tua? No, la prima Qua dietro, con gli stati Sono tutti qua dietro Crackato Guardate qua Guardate qua Crackato il GB Dai, guardate la rate La mano col GB Mamma Salve, sì Crackato la rate Crackato il GB Un HP GB Un HP GB C'è ancora qualcuno Da me 56 Però non cazzo Tutto vostro Ho preso un TP per errore Ho preso un TP per errore Oddio No, non sono morto Grazie raga Mi avete salvato Che gentili Ma no, nel KD Un secondo All'ultimo KD è falo 7 kill E il mio KD è salvo Cheat Il mio KD è salvo